Abbiamo sentito i protagonisti delle istituzioni, i protagonisti del volontariato sportivo, direi che una cosa che accomuna tutti è la preoccupazione del bene comune, perché mi è sembrato che anche da parte del volontariato sportivo non ci sia la rivendicazione di interessi, di qualcosa che è stato conculcato, ma la preoccupazione del bene comune. Allora, adesso sentiamo l'altro protagonista, quelli dello sport, quelli che hanno a cuore lo sport. Federico Aramani, presidente dell'ASB. Credo che fondamentalmente le cose che andavano dette le abbia dette Enzo Gandolfi, nel senso che la rappresentazione che lui ha fatto è una rappresentazione che pone la domanda delle domande, che è una domanda tutta politica, nel senso che al di là delle soluzioni gestionali, delle architetture tecniche o finali, finanziarie o delle operazioni di ingegneria giuridica, ma tutte le soluzioni che vengono scelte, si chiamino project financing, si chiamino finanziamenti diretti dell'ente pubblico, debbono essere finalizzati a un disegno politico. Cioè, l'ente pubblico deve porsi uno scopo. Allora, noi chiediamo, qual è lo scopo che questa amministrazione in questo momento si pone? Cioè, i valori, i contenuti etici, quel valore aggiunto che diceva prima l'assessore della provincia, condivido molto il suo ragionamento, che hanno informato e ispirato tutta l'attività che Enzo Gandolfi ha rappresentato in questi dieci minuti, sono ancora attuali, sono di interesse per questa amministrazione. Poi dopo discutiamo di tutto il resto, project financing, le fondazioni, tutto bene, ma il disegno, il contenuto, il modello associativo, qual è? Cioè, noi perseguiamo un modello che è quello delle palestre, ben attrezzate, con le macchine per la muscolazione, tricipiti, dorsali, quadricipiti, eccetera, tutti davanti agli schermi a cristalli liquidi, poi ce ne usciamo, andiamo magari a fare la spesa al centro commerciale, in questo mondo rutilante, scintillante, dove ciascuno di noi si perde, dove le relazioni non esistono. E' questo il modello che noi perseguiamo? Perché il modello che Enzo Gandolfi ci ha raccontato è un altro, è quello delle persone che si mettevano assieme per il bene comune. Prima ancora del fatto sportivo, c'era dietro appunto un disegno etico, politico, una tensione morale, che sono le cose che mi sembra, ci sembra, manchino in questo momento in questa città. Ma se è vero ciò che leggiamo tutte le mattine sui giornali, questa sorta di bollettino di guerra di quello che è accaduto nella notte, non mi riferisco solo agli stupri che sono un problema rispetto al quale le società sportive poco possono, ma mi riferisco a tutti i comportamenti di inciviltà che vengono messi in campo da persone che tra l'altro, in buona parte, dovrebbero anche forse essere l'elite intellettuale di questo paese, se è vero che avvengono all'università. Ebbene, noi, il mondo sportivo, l'associazionismo, il volontariato, ma non solo quello sportivo, intendo il volontariato in generale, perché questo ragionamento non può essere fatto a fette come un salame, bisogna, voglio dire, affrontarlo nella sua globalità. Si è posto questo problema fin dalla sua nascita, cioè il problema di mettere le persone in relazione tra loro, di offrirgli degli spazi, dei momenti di organizzazione, di impegno. Queste cose interessano? Ecco, questa è la domanda politica che abbiamo posto. Noi aspettiamo una risposta su questo. Se interessano, allora poi si può discutere, si deve discutere, le amministrazioni discuteranno, i cittadini valuteranno se le discussioni sono state fatte in termini giusti o meno, ma, ripeto, la domanda è questa, questo modello, che è un modello che ha messo le persone in relazione, che ha prodotto i risultati che sono stati rappresentati, che oggi certamente va aggiornato, perché Enzo, voglio dire, ciò che era bene 40 anni fa, forse oggi, bisogna certamente in qualche modo rinfrescarlo. Lo stesso dato anagrafico, insomma, del gruppo dirigente del mondo sportivo a Bologna, ci segnala che c'è anche la necessità di un rinnovamento. Questi sono fatti veri, rispetto ai quali non si può nascondere la testa sotto la sabbia, ma rimane il dato politico rispetto al quale noi non abbiamo ancora sentito una risposta chiara. E la riproponiamo questa sera. Questa amministrazione, io non parlo né di sindaci né di assessori, non ci sono problemi di persone, qui ci sono problemi di linea politica, di disegno politico. Questa amministrazione intende confermare questo patto con questa parte della città, oppure no? Ecco, se intende farlo, allora sappia che troverà sempre, voglio dire, in questo mondo, quel tradizionale alleato che ha trovato in questi 40 anni. Io non so se questa c'era c'erano problemi, ho sentito dire, dibattito civile, io penso che questo mondo abbia sempre e solo espresso contenuti di civiltà e di partecipazione. E quindi non ci si può aspettare niente di meno da questo mondo. Però questo è un mondo che va anche rispettato. E quindi io credo che la domanda che è stata posta in termini chiari meriti una risposta in termini altrettanto chiari. Grazie. Grazie alla Mani. Fabio Casadio, Presidente del WISP. Stasera è uscita una domanda che forse ci facciamo tutti da diverso tempo. Qual è la nostra funzione? Dico nostra, il WISP, ma intendo le società sportive, intendo gli altri enti di promozione sportiva, intendo il CONI, intendo tutti i protagonisti di questo variegato mondo. E mi faccio questa domanda alla luce dei dati che sono usciti dall'indagine multiscopo dell'Istat proprio in questi giorni. dati che a me preoccupano moltissimo, perché 23 milioni di cittadini italiani sono sedentari. Equivalente al 41%. Però il problema è ancora più allarmante, almeno dal nostro osservatorio, perché questa tendenza è in aumento. Cioè nel senso che nel 95 erano 37 rotti per 100 e nel 2000 erano 38 e qualche cosa. Quindi intanto noi, come fra virgolette detti ai lavori, ci dobbiamo chiedere perché non riusciamo a contrastare questo passaggio. 23 milioni. Se analizziamo meglio i dati che ci fornisce sempre questa indagine, andiamo a vedere anche un'altra cosa, che chi fa attività in modo continuativo sono 16 milioni rispetto a 23. Uno potrebbe anche immaginare, tutto sommato non è male come dato, poi lo andiamo ad analizzare. In realtà di questi 16 milioni, solo 7 milioni, è quello con cui entriamo in rapporto noi, inteso noi enti di promozione sportiva, società sportiva, coni. Questi sono coloro che si rapportano con noi. Altri 9 milioni sono quelli che voi vedete correre nei parchi, sono quelli che voi vedete fare attività al di fuori di noi. Se poi andiamo ad analizzare meglio questi 7 milioni, ci accorgiamo che 3,5 sono fra virgolette di rapporto delle federazioni e 3,5 rimangono proprio i nostri. Quindi allora abbiamo messo 23 milioni che non fanno niente, 9 che fanno attività fuori da noi e fanno 31, poi ci sono quelli che la fanno di tanto in tanto, che sono fuori da noi e sono altri 12 milioni. Allora il tema nostro è, noi stasera siamo qui che stiamo parlando di 3,5 milioni di cittadini e non ci stiamo occupando degli altri 40 milioni di cittadini. Allora una prima considerazione ce la dobbiamo fare in casa nostra. ecco l'interesse secondo me di questi incontri e approfitto per invitare tutti voi, quelli che hanno delle rappresentanze istituzionali o societarie, sono già state invitate. Ma domani pomeriggio alle 5.30 in Cappella Farnese è organizzato un convegno sulla programmazione e pianificazione dello sport. perché l'altro elemento che secondo me è importante aggiungere questa sera è che io non concordo in questo caso con Gandolfi quando dice l'impianto sportivo è un impianto sportivo. Perché l'impianto sportivo è il contenitore. Noi dobbiamo ragionare sul contenuto e di conseguenza avremo il contenitore. Quindi l'associazionismo sportivo in tutte le sue sfaccettature deve cominciare a porsi queste domande. La domanda che prima faceva in questo caso Federico all'amministrazione ma siamo ancora interessanti? Io credo che noi dobbiamo elaborare una nuova proposta domani sera se ne sarà presentata una ma ha solo lo scopo di buttarla lì per facilitare la discussione, l'elaborazione ma il mondo sportivo deve arrivare oggi a una risposta se è vero il bene della comunità a cui si rifaceva prima Mainardi nella premessa è una risposta per 40 milioni di cittadini. Poi aggiungo anche altre due cose il mondo del volontariato dove io mi ci trovo e mi ci riconosco ha altre due necessità secondo me la prima è di professionalizzarsi molte delle cose che abbiamo sentito stasera è che giustamente Enzo diceva sarà stata la nostra ingenuità sarà stata perché gli altri hanno... è esatto, è proprio questo oggi con la nostra ingenuità fra virgolette non riusciamo a sostenere anche altri interessi allora dobbiamo professionalizzare il volontariato cioè dargli quelle conoscenze che gli permettono di competere sulla competizione che esiste quotidianamente un tentativo per esempio con Iconi, con il CSI lo abbiamo fatto mettendo insieme corsi di formazione in tutta la provincia organizzati dalla CTC cioè dal settore formazione della Camera di Commercio che cosa fa? Prepara Manager l'abbiamo trasferito nel mondo dell'associazione sportiva dopo Renato forse vi può dire che in alcuni casi con buon successo perché i corsi hanno visto una buona partecipazione in altri casi no quindi c'è ancora molto da lavorare il terzo punto che il volontariato oltre a professionalizzarsi ha una necessità di collaborare con dei professionisti cioè quando ha le idee chiare e si è professionalizzato deve comunque andare a cercare dei professionisti per svolgere alcune parti perché oggi il servizio di cui si diceva all'inizio è un servizio che deve essere sempre più di qualità ormai le richieste dei cittadini non sono più quelle di 40 anni fa che si accontentavano di venire a dare due calci in un campo di calcio appena formato oggi hanno la pretesa di trovare l'erba alta 2 cm o l'acqua a 28 gradi o tutto quello che segue quindi questo era un po' in realtà un invito per domani sera perché queste tematiche saranno affrontate in modo più specifico ecco io però bisogno di spendere altre due parole perché per la WISP è stato un impegno fortissimo in campagna elettorale per fare notare delle linee politiche che poi si sono realizzate e a cui noi teniamo molto la prima è stata inserire nelle linee guida della campagna elettorale ma soprattutto nei documenti successivi il fatto che gli impianti sportivi debbono rimanere pubblici allora un impianto sportivo per rimanere pubblico è semplicissimo deve avere un contributo economico da parte del comune perché se sparisce questo in automatico in automatico il gestore deve far tornare i conti e quindi bisogna lasciargli le mani libere allora tutti i gestori sia di acqua che di terra hanno le mani legate da convenzioni col comune che non gli lascia spazio di interpretare nulla a fronte di questo hanno un sostegno economico per riuscire a tenere aperti gli impianti questo è un importante risultato che non è facile mantenere perché se alla guida di questa città ci fosse una mentalità diversa avrebbe priorità immediata l'aspetto economico l'abbiamo già visto poco tempo fa lo rivedremo sicuramente a questo noi preoccupa molto quindi ecco perché noi difenderemo sempre quell'amministrazione che è dell'idea di non privatizzare gli impianti e l'altro punto sono i documenti oggettivi che abbiamo in mano abbiamo un regolamento che si rifà alla legge 34 della promozione sociale noi tutti quanti siamo soggetti di promozione sociale perché oltre alle cose che accennava prima l'assessore strada inclusione pari opportunità e tutto quanto abbiamo anche altri elementi presidio del territorio perché quando in un parco ci sono tutti gli sportivi che ci vanno non ci vanno altri tipi di frequentazioni abbiamo secondo me in questa fase poi della nostra vita un importantissimo valore che è quello della prevenzione oggi non esiste un giornale una ricerca scientifica che non abbina una buona alimentazione movimento legata quindi alla prevenzione dell'obesità legata quindi alla prevenzione della depressione nelle persone anziane legata a tutte quelle cose che con lo sport ci possono attutire queste sono le tematiche secondo me che ci riguardano oggi piani strutturali io ho concluso piani strutturali questo è il momento domani come vi dicevo il convegno va in questa direzione nei piani strutturali si fa Bologna o i comuni della provincia di Bologna per i prossimi 15 anni ecco in questi 15 anni noi dobbiamo andare a dire qual è l'idea di sport non secondo me quali sono gli impianti quelli arrivano di derivanti e bisogna che dietro a questo ci sia un lavoro di conoscitivo sull'impiantistica sportiva che permetta poi a tutti gli attori di fare dei ragionamenti e ovviamente all'amministrazione pubblica di decidere grazie Casadio Renato Rizzoli presidente del CONI buonasera a tutti io volevo Giorgio ritornare un po' sul tema perché ascoltando i discorsi perché non è detto i lavori sembra che il volontariato sportivo sia stato quello e ha fatto un lavoro straordinario e ancora oggi lo fa che gestisce e gli impianti secondo me siamo andati un po' fuori dal tema che c'è scritto qui in quello puscolino che Ambat Brisa dice il volontariato sportivo a Bologna il volontariato sportivo non è solo quello prima l'assessore strada ricordava che qui ci sono mille passi a società adesso ognuno dice le sue ma secondo me un altro aspetto importante non vorrei dire più importante almeno oggi poi dopo ritorno sulla gestione chiedo un attimo di attenzione solo attenzione che io ho dei dati che riguardano le federazioni che conosco al centesimo e poi li trasferisco sugli enti nella provincia questo è un dato provinciale è chiaro che non è al centesimo quindi prendetelo per buono proprio quelle società sono mandate avanti da 10.000 dirigenti tutti sottolineo tutti i volontari e cominciamo a intenderci sui volontari volontari vuol dire uno che non prende una lira o quando va bene prende 200 euro forse per la benzina intendiamoci perché sui volontari se ne sentono di cotte e di crude siamo a 10.000 va bene ci vogliamo mettere tutti gli arbitri i giudici di gare che in questa città mandano avanti poi dopo arriva a dire arriviamo a 2.000 sono 2.500 siamo a 12.500 sono tra tesserati 5.000 tecnici e qui qualcuno prende dei soldi tra i tecnici nel senso che prende qualche compenso non sono grandi cifre però qualcuno lo prende quindi diciamo che la metà di questi sono volontari siamo a 15.000 se aggiungiamo il mondo degli enti di promozione sportiva di cui non ho i dati io credo che da questi 15.000 perlomeno a 20.000 arriviamo quindi in questa provincia in questa provincia ci sono 20.000 persone assolutamente volontari i vi compresi quelli che prendono ripeto 200 euro il mese o 300 che mandano avanti lo sport bolognese mandano avanti quei 100.000 che pare nella nostra provincia facciano sport senza i quali i nostri figli io non ne ho ma insomma i ragazzi i giovani e i meno giovani fanno sport attenzione quindi qui non stiamo solo parlando e dopo lo toccherò ripeto della costruzione degli impianti che chiaramente oggi deve seguire schemi diversi il mondo del volontariato sportivo che però si vende malissimo e dopo dirò anche perché è costituito da 20.000 persone che consentono nella nostra provincia ogni sabato e domenica da settembre ottobre a maggio di allestire 800 avvenimenti sportivi partite di calcio di palavolo di palcanestro gare di schermo eccetera vanno a prendere i ragazzi a casa li portano li riportano a casa lavano le maglie tirano la riga sul campo parlano con i genitori confessano il bimbo fanno da educatori quello che oggi forse nessuno si sente toccato la famiglia non fa più non è in grado di fare questo è il ruolo fondamentale del volontariato sportivo non volevo strappare applauso questo è il ruolo fondamentale del volontariato sportivo sono ripeto loro che consentono ogni domenica forse anche il Bologna qualche volontario ma evidentemente è un'altra parocchia quella che consentono di organizzare tutti gli eventi sportivi gli allenamenti durante la settimana di pulire gli spogliatoi di magari qualche volta tirare fuori anche qualche lira per mettere i dirigenti per metterla perché se non va avanti questo è il grande movimento che oggi 2000 e 007 è caratteristico dello sport bolognese ma di tutta Italia allora quando sento dire non voglio fare una freccettina polemica mi scappa qualcuno molto in alto che dice che il volontariato non so a quale tipo di volontariato si riferisce è superato io credo che il volontariato non sia superato non so cosa intendesse dire quella affermazione credo che sia una formazione che non risponda alla realtà il volontariato sportivo è tutt'altro che superato non vedo alternativa a questa forma di volontariato non possiamo permettere di pagare quanto ho detto 20.000 persone poco o molto che le pagassimo ci vorrebbero milioni di euro quindi quali sono i problemi che ha il volontariato sportivo uno l'ho sollevato e mi hai battuto in volata certamente la formazione ma per la verità lo dico da molto tempo cioè il volontariato deve essere volontariato non deve essere professionista ma deve essere professionale chiaramente i tempi sono cambiati i ragazzi a 12-13 anni non accettano più che il pensionato allenatore di calcio lo tratti in un certo modo non l'accetti il ragazzo non l'accetti il genitore quindi è chiaro che noi dobbiamo fare un percorso di formazione un messaggio che io ho più volte lanciato devo dire magari adesso ho avviato questo corso con Luis Peloxi che andrà avanti due anni un piano di formazione biennale in certi comuni e risposte in altri un po' meno però un problema che dovremmo affrontare voi con la vostra prestigia e autorità coinvolgendo l'università la sanità fare un piano di formazione molto forte dei nostri dirigenti sportivi che non sono più adeguati lo dico sempre lo dico anche quelle volte che mi capita di essere a Roma il talone da chilo dello sport italiano e dei dirigenti di Abete scusate mi è scappato e di Matarese che andrebbero sostituiti adesso domani sarò buttato via dal mio scranno ma sicuramente ma sicuramente i nostri dirigenti volontari che ce la mettono tutta ma non basta più perché oggi bisogna conoscere elementi di pedagogia di psicologia di comunicazione che chiaramente una persona se no il titolo ho sentito dire non so se questa era la sede il titolo non può essere il titolo di merito ma io tamp vado a fare allenatore di basket piuttosto che di calcio piuttosto che di schermo forse andava bene 40 anni fa oggi non va più bene come non vanno più bene gli impianti gli impianti di allora ecco quindi l'altra l'altra sottolineatura quindi che volevo lanciare mi piacerebbe che in questa città dove devo dire più volte ho tentato di dire costituiamo un tavolo per fare delle cose insieme non ci sono ancora riuscito adesso l'Anna si è distratta e viene portata via dicevo anche lei l'ho detto l'altro giorno di fare un tavolo ho detto che mi risponderà dopo le ferie ne ho parlato più volte con l'amico strada lo dico pubblicamente stasera mi piacerebbe in questa città se fosse un tavolo in cui il CONI gli enti di promozione non tutti non serve i due assessori e quant'altro trovassimo dei motivi di collaborazione forse avremmo anche risolto quei problemi e ripeto mi dispiace che la storia sia andata via che certamente sono creati perché la cosa che dico sicuramente in quei bandi lo dico piano è uscito qualcosa non ha funzionato che sia stato poi l'assessore i dirigenti di quartiere scusa qualcuno dice le società che non sono state magari abbastanza abili nel presentare e nel nazionarsi resta il fatto che in questi mesi alcune delle più grosse polisportive bolognesi anziché pensare a promuovere lo sport a far lavorare i ragazzi a far bene le partite a portare altri ragazzi a fare sport studiare dall'avvocato studiare i codici vedere i bandi fare le leggi hanno dovuto dedicare del tempo e risorse a cose che non è certamente loro abituali diciamo che è stato uno scotto che si è da pagare io sono riconoscente anche al volontariato storico perché passavo mille volte in via Torino in macchina per due o tre anni e vedevo buon insegno il presidente della società Pontevecchio la porga rossa di Bologna il nero abriso l'ultun galupen che con vanga e cariola ha trasformato un campo di erbacce poi mi dice che una volta c'erano anche i ruschi e l'ha trasformato in un campo di caldo certo oggi le cose sono cambiate quelle cose non si possono più fare così finisco quindi sicuramente il volontariato quel volontariato è cambiato io ho tenuto solo a dire che c'è un altro volontariato che è il cuore dello sport italiano il cuore dello sport polonese che dobbiamo tutti sostenere perché a quel volontariato sono affidate le risorse dello sport e dei nostri giovani che il bene è pur prezioso scusate se l'ho fatta lunga grazie Renato per cui direi la Manuela Verardi salve buonasera a tutti io sono presidente di una società sportiva la Polisportiva Pontevecchio che credo rappresenti l'insieme del volontariato sportivo di cui si parla stasera nel senso che noi siamo gestori di impianti sportivi in passato molti nostri dirigenti li hanno costruiti e siamo anche grandi organizzatori di attività sportive in particolare per i bambini e per i ragazzi noi siamo una società che appunto ha quotidianamente occupate nell'attività sportiva annuale circa 200 persone fisse oltre a tutti gli organismi che sono realmente democratici io proprio perché la domanda è cosa le pubbliche amministrazioni pensano e vogliono fare del volontariato sportivo io voglio dire solo una cosa non è vero che il volontariato sportivo è ancora quello di una volta c'è ancora quello di una volta ma c'è molto altro oggi tra i nostri tecnici tra i nostri dirigenti abbiamo fior fiori di professionalità e di professionisti che gratuitamente al massimo per i 200 euro di cui parlava prima qualcuno dedicano ore e ore di lavoro quindi quando mi sembra a casa dio ci dice ma noi dobbiamo fare una riflessione su noi stessi sicuramente abbiamo dei limiti che delle necessità di aggiornamento ma smettiamo di rappresentare noi stessi come una realtà del passato non è più così io sono anche presuntosa sfido fiorfiori di società professioniste odienti di promozione che sono tutti che vivono sulla base di dirigenti e dipendenti tutti stipendiati a mettersi a confronto con noi sul piano delle capacità organizzative di lavoro di organizzazione perché dico questo perché oggi secondo me la sfida è di aggiungere la professionalità non venendo meno ai valori che sono stati propri della nostra tradizione e anche questo perché faccio questa considerazione perché anche qui è vero che oggi la pratica motoria è varia e diffusa i parchi sono pieni per fortuna io credo che sia un vanto di questa città offrire degli spazi la gente che va in bicicletta sulle strade nelle rotonde di cui parla Gandolfio nelle piste ciclabili è davvero tanta ma tutti questi non li rappresenta nessuno né le vecchie società né le federazioni del CONI è giustamente sono giustamente persone che in forma libera praticano l'attività motoria noi dobbiamo parlare degli altri di coloro che hanno scelto in una parte in un momento della loro vita del loro tempo di praticare l'attività all'interno di strutture di momenti organizzati allora io credo questo che secondo me uno dei valori che deve caratterizzare il volontariato e distinguere poi però gli altri due punti è proprio questo l'avere al centro del concetto dello sport per tutti e quindi dell'attività motoria per tutti per tutte le robe che qui venivano dette la sedentarietà e quant'altro sia quello di privilegiare i giovani e gli adolescenti perché questo è il buco grande che oggi noi abbiamo in questa società perché leggo stamattina che finalmente anche l'amministrazione comincia a porsi il problema degli effetti della difficoltà del governo di una realtà in cui si sono consolidati certi stili di vita io e apro una parentesi prima di fare siccome spesso leggo delle battute ironiche che mi infastidiscono io ho fatto anche l'assessore una volta nella mia vita e dico ora qui ma l'ho detto anche in altri momenti che reputo che oggi sia molto più difficile amministrare rispetto a vent'anni fa proprio perché sono consolidati e stesi questi stili di vita che riguardano in particolare le giovani generazioni e sono stili di vita che fanno confliggere modalità interessi e quant'altro ebbene è chiaro che con lo sport con l'attività motoria non risolvi questo problema però io credo che sia una cosa diversa offrire a un ragazzo a un bambino a un adolescente a un diciottenne l'opportunità di andare a praticare attività motoria in una palestra in cui paghi ricevi una prestazione e torni a casa e farlo in un ambiente invece in cui c'è un rapporto costante con il tuo allenatore educatore c'è una relazione tra i genitori ci sono momenti organizzativi associativi in cui questi ragazzi non vengono presi due volte alla settimana per due ore ma vengono seguiti anche al di fuori gli vengono offerte opportunità durante l'estate ci sono i campi estivi c'è una continuità un'aiuta a quel ruolo drammatico che oggi devono assolvere le famiglie questa è una differenza non è uguale non siamo uguali noi che facciamo certe cose rispetto a una società a una professionistica che si chiama Virgin che si chiama Fitness First o che si chiama Wisp dove tu vai paghi ricevi una prestazione e torni a casa questa è la grande differenza e io pretendo che in una sede politica poi mi si potrà dire che sbaglio sono disposta a confrontarmi di questo si parli di quelli che sono i contenuti del volontariato sportivo inteso come diceva Rizzoli a 180 gradi veniamo agli altri due elementi poi la faccio finita della discussione di questa sera i bandi mica i bandi i criteri mica i criteri noi siamo una delle società che è stata estromessa dalla gestione degli impianti sportivi io devo dire questo e lo confermo non c'è miglior gestore che non sia l'utilizzatore degli impianti perché cosa diversa chi gestisce sulla base di regole regolamenti criteri principi fate tutto quello che volete ma si troverà sempre il modo di scappare vi faccio un esempio Gandolfi deve avervi fatto vedere noi abbiamo un campo di calcio che gestivamo noi che adesso è passato a un altro è chiuso ripeto chiuso dal 27 di giugno l'ha abbandonato a maggio scuso sbagliato la data l'amministrazione li vuole fare i controlli e li fa cioè non è che non lo sta facendo ma siccome il regolamento dice sette annaffiature come fai a dimostrare quando si devono fare le sette annaffiature al di là della buona volontà anch'io se dico mia figlia di annaffare il giardino sta lì dieci minuti e dice mamma ho già innaffiato ma non ha annaffiato il giardino ha fatto la finta questa è la realtà cioè voglio dire che oggi i criteri i regolamenti non sono sufficienti quello che si è perso oggi poi non so ancora bene la strada per risolverlo è il rapporto fiduciario il criterio del buon padre di famiglia che ispirava le gestioni dell'impianto pubblico negli anni passati perché questa è la grande differenza si dice ci erano dei criteri tecnico qualitativi nei bandi ha ragione l'assessore è proprio vero la differenza però qual è? che i criteri tecnico qualitativi dicevano la struttura organizzativa cosa farà in futuro? bene io dico la Pontevecchio ha perso nei criteri tecnico qualitativa rispetto a società che non hanno nulla perché l'importante è raccontarla questo è quello che io trovo inaccettabile si fa un bando il punto di partenza deve essere una esatta valutazione precisa dello stato di fatto in cui versa quell'impianto perché questo ti consente di valutare come è stato gestito nel passato per cui uno che viene dalla luna mi può raccontare che mi riempie d'oro il campo di calcio ma uno che ha gestito malissimo quell'impianto per tutti questi anni non me la può raccontare e se uno ci crede diventa complice di questa cosa e siccome invece io sono convinta che non fosse questa la volontà dell'amministrazione ma l'amministrazione si è trovata dei pezzi di carta io ritengo che è questo che non va bisogna sostituire ai pezzi di carta una volontà politica amministrativa un occhio una relazione fiduciaria che non vuol dire rispettare leggi vuol dire cominciare a dire le cose come stanno io mi sono offesa lo dico sinceramente per il bando stato fatto in questi mesi la tornata dei bandi passati c'era già stata sono state messe a bando le palestre scolastiche nel quartiere Savena e che cosa vedo non è stato fatto nulla per fare una fotografia reale di come il precedente gestore nei sei anni ha lasciato quelle palestre scolastiche sono in una situazione immonda immonda in cui qualunque di voi se c'aveste il vostro bambino si vergogna a mandare il bambino in quelle condizioni di tutto questo nei bandi non c'è niente ancora una volta bisognava raccontarla in questo caso abbiamo tra virgolette vinto dovendo spendere già 19.000 euro di avvocato perché adesso siamo al consiglio di stato per un'assegnazione di un anno detto tutto questo quindi l'esperienza non insegna mai la prima volta lo capisco le regole i pezzi di carta ci siamo trovati un po' tutti sprovveduti ma la seconda volta la seconda volta io devo vedere che vengono fatti i bandi al quartiere senza nessuna valutazione di come quel gestore aveva gestito quegli impianti e quindi è stato ancora una volta sufficiente quello che uno racconta chiudo l'argomento dicendo gli impianti ne discuteremo domani in questa riunione convocata dall'UISPA a cui è stato ho visto delegato il fatto di aprire il confronto con il mondo sportivo nell'ambito del PSC avrei preferito che lo avesse fatto direttamente l'amministrazione comunale visto che ha fatto sì convocato dall'UISPA sono due cose diverse ecco allora avrei preferito che lo avesse fatto quando lo farà saremo ben lieti di partecipare io mi limito a dire questo è verissimo che la situazione della finanza locale è quella che è è verissimo credo che anche in una situazione di ristrettesse ci sia un problema di risorse io voglio solamente fare due esempi in regione le ristrettesse esistono dappertutto esistono in tutti i comuni della provincia che si sono dotati di un'impiantistica sportiva moderna aggiornata e qualificata esistono negli altri comuni della regione guarda caso nel comune di Parma dove Vittorio Adorni è diventato assessore due anni fa ha avuto la lungimiranza di cogliere questa disciplina che è la ginnastica ritmica disciplina femminile che peraltro ha la peculiarità di consentire di tenere in palestra anche le atlete meno dotate nell'età dell'adolescenza e ha costruito un impianto dedicato che ha portato all'esplosione di questa disciplina l'assessore la canoista che adesso non mi ricordo quella che ha vinto di Ravenna ha avuto altrettanta idea e anche in quel caso un anno fa si è inaugurato un impianto dedicato allora io dico ma come è mai possibile che là dove abbiamo degli assessori che provengono da questo mondo che sono consapevoli diciamo e non è un problema di oggi io vorrei essere molto chiara quando io dico queste cose non è che questi fatti si risolvano in tre anni sono fatti che hanno origini antiche errori antichi quindi non penso che questo sia un problema degli ultimi due anni e mezzo dico però che guarda caso nel momento in cui c'è un'attenzione qualcuno che sposti l'attenzione alle reali problematiche del mondo dello sport le cose cambiano gli esempi Ravenna e Parma guidati da due esponenti del mondo dello sport hanno prodotto un'immediata inversione di tendenza io quindi chiedo che in sede politica si rifletta anche su queste cose proprio perché c'è il PSC ci sarà il piano della provincia c'è un'opportunità assessore lei ha detto che le dispiace di non poter fare niente rispetto alla gestione degli impianti sportivi io mi permetto di dire una piccola cosa secondo me la provincia qualcosa può fare la provincia è proprietaria di scuole in queste scuole ci sono delle palestre che vedi il caso del quartiere Savena rappresentano l'unico impianto disponibile di qualità che purtroppo sono in condizioni pesantissime ci piove succede di tutto allora ritengo che anche in questa è un piccolissimo esempio noi abbiamo già avviato una serie di sollecitazioni all'amministrazione provinciale credo però che ciascuno in questa diciamo volontà se ci sarà possa trovare un proprio piccolo spazio grazie grazie Emanuela Verardi Stefano Gamberini del centro sportivo parlo molto volentieri e intanto ringrazio per l'invito l'avevo già detto anche in passato l'avevo detto con gli amici Rizzoli Casadio cioè in particolar modo quando sono successi i tristissimi fatti del campo Mario che è incendiato il gazebo eccetera eccetera cioè bisogna trovarsi per parlare altrimenti ci sovrastano le brutte cose le delinquenze e siccome che noi siamo bravi noi siamo molto bravi siamo molto bravi e siamo in tanti come abbiamo detto prima e però siamo anche un po' con i capelli bianchi allora io questa sera ho sentito delle bellissime cose ringrazio che mi ha preceduto sono molto fortunato così non le devo ripetere però dico che sulla quasi totalità sono d'accordo cioè parto da un punto molto semplice io ho anche la fortuna come presidente provinciale del CSI e di essere anche consigliere nazionale del mio ente quindi giro sento ascolto bene Bologna è una città rara rara perché nella gestione degli impianti da tempo ha scelto una linea politica che consente di mantenere gli impianti sportivi in mano all'ente pubblico lo fa sia nel comune sia nella provincia quindi questo è un dato di partenza che toglie delle voglie privatistiche che poi se ne approfittano lo sappiamo tutti non lo dico io alle 11.10 di sera di egemonizzare l'impianto e di trasformarlo in una macchina di utili quindi questa scelta storica di cui ancora noi godiamo l'hanno fatti i nostri predecessori non so Gandolfi che tra parentesi dicevo siamo un po' datati lui era mio compagno di banco a scuola dico ho un po' più di capelli di te ma insomma alla fine siamo sempre qua ma poi c'è Carlo Bianchi qua ce n'è c'è Ivano Zoccadelli ci siamo tutti ma ci siamo tutti da 40 anni poi torno su questo aspetto allora parto dal fatto politico questo fatto politico ci mette già come diceva Troisi non ricominciamo da uno ma ricominciamo da tre cioè del buono l'abbiamo già in mano come è da gestire beh Dio non lo dobbiamo certo dire questa sera però intanto che tutte le società sportive abbiano diritto di utilizzare gli impianti e che l'ente pubblico e la provincia così facciamo la par condizio paghino per noi una cospicua cifra per salvaguardarci questo è molto importante è poco è molto è fatto bene sarebbe una follia esaminarlo qua partendo da questo ci troviamo però in un circolo estremamente pericoloso che non è stato toccato questa sera concordo sulla professionalizzazione del volontariato sulla tipologia del volontariato però facciamo una piccolissima riflessione per partecipare a un bando ci vuole una società commerciale oggi la legge consente la società commerciale sportiva vi risparmio la struttura di questa però ce lo consente tutte belle parole i bandi i concorsi poi arrivano le fidei usioni arrivano le garanzie ma vi siete mai chiesti e lo sapete benissimo scusate se lo dico chi è il rappresentante legale di una società commerciale del volontariato volontariato è rappresentato da persone che fanno altri mestieri oppure sono dei pensionati allora in ogni caso sono persone che poi devono assumersi degli obblighi legali di rappresentanza e ne devono rispondere in solido giratela come volete allora quando un povero deficiente va a firmare un bando che sia presidente di una società sportiva o presidente di un ente di promozione sportiva come sono io per gestire un impianto lo fa in prima persona allora pensate davvero ecco e ritorno che questa generazione sopravviva io credo che fra un po' ci vuole il WWF per cercare della gente come noi non ne trovano più non ne troviamo più perché io vedo Martino col circolo Dozza che ha perso il Biavati perché la Verardi ha perso mica poco con i suoi impianti ma altri hanno perso delle grosse cose ma toccherà a tutti io rappresento un ente che ha più di 300 società che sono tutte piccoline e io voglio difendere gli ultimi quelli che diceva Strada prima voglio difendere non gli ultimi quelli che hanno dei problemi fisici ma quelli che hanno solo la possibilità dopo dieci ore di lavoro perché otto le lavorano e due le passano in macchina dopo dieci ore di lavoro di giocare o di fare del volontariato per seguire la squadra del bar per non farsi prendere da deficienti da quello che dicono in televisione allora si vuol gestire qualcosa ma cosa vuol dire gestire qualcosa ma chi ci difende a noi nessuno quindi trovare della gente che prenderà il nostro posto caro Gandolfi sarà dura noi siamo dei dinosauri allora se non ci danno un aiutino ed è questo il messaggio che io lancio e sono sicuro che lo raccoglieranno perché rappresentano un'amministrazione che col sociale ha sempre avuto un occhio di riguardo o lo dico io del CSI che seguo le parocchie quindi non mi dite che sono di sinistra perché non è vero allora però è così è così allora per difendere questi ragazzi ce la mettono tutta per farci del male amministrazioni documentazioni certificazioni e poi il presidente deve andare a firmare io delle volte quando firmo degli appalti mi dico ma cosa sto facendo poi ormai ne ho fatte tante guardi in faccia i miei collaboratori e firmo e poi speriamo che vada bene ma se mi va male se un'assicurazione non viene osservata se casco un muro se qualche cosa non faccio bene chi mi difende io mi ricordo una volta che Petrucci ai cent'anni della fortitudo disse con molta enfasi stiamo studiando un progetto per fare in modo di garantire delle fideiussioni che coprono i dirigenti che si prendono delle responsabilità quai ozzi stanno pensando ad abete stanno pensando mi viene meglio in dialetto perché sono bolognese di dinastita e mi capite benissimo allora io dico poi finisco perché mi hai dato un orario infame che non dovevo neanche parlare però poi quando ci sono non smetto allora io dico cari assessori se c'è stato un inciampo io credo che sia stato un inciampo dovuto anche all'incapacità di qualche presidente di quartiero o qualche tecnico e qualche mancanza di controllo anche da parte vostra se vogliamo la linea politica però è quella giusta va controllata bene va messa a punto ascoltando noi altri noi queste persone qua tutti da Borgo Panigale li conosco tutti questi quasi tutti non voglio fare il presuntuoso però ascoltando questa base si può affrontare il nuovo tipo di volontariato perché come la Verardi che è una professionista lo diceva il fatto di abbiamo bisogno sempre di ascoltare degli esperti di professionalizzarci verissimo però dovete anche aiutarci a salvare il volontariato perché se non ci salvate noi dietro di noi il ricambio è molto difficoltoso e i valori perdonatemi che li chiamo così che così mi salvo voi tutti portate mi ci tiro via io vanno pian piano a sparire perché ormai l'egoismo la fa da padrone è questo che dobbiamo salvare e voi che siete l'istituzione politica e pubblica ci dovete dare una mano per me questo è il messaggio buonanotte grazie sono Gianpaolo Balotti sono un dirigente sportivo dei 20.000 che diceva Rissoli ho una storia dietro come tutti voi ho quasi 50 anni di dirigenza e gli ultimi 25 30 li ho spesi 20 a richiedere al Parlamento di fare una legge sul dilettantismo per tutelarci perché quella del professionismo l'hanno fatta in pochissimi giorni nel 1981 e noi ci hanno ignorato per sempre poi ho speso 12 anni sempre volontario gratuito al centro sportivo barca perché mi piaceva essere là perché ero dirigente di un team ciclistico l'unico di Bologna che fa settore giovanile quindi ho lavorato quasi una vita per ottenere dal Parlamento un riconoscimento una tutela e anche un sostegno improvvisamente senza che io lo chiedessi con la legge finanziaria 2003 quindi fatta in dicembre del 2002 lo Stato ha deciso che io esisto e ha riconosciuto l'associazionismo sportivo e l'etantistico dicendo anche che sono bravo bravissimo anzi complimenti che ci sei mi ha dato delle regole statutarie mi ha detto che devo fare senza fili di lucro e guarda caso e questa è la cosa che mi ha sorpreso ha detto ha scritto che se il comune non riesce più a gestire l'impianto a Bologna da 15 anni che non riesce più in via preferenziale è l'associazionismo sportivo che vince la gara ma socia dice quello di Bologna ha riconosciuto che esisto e che sono bravo ecco questa via preferenziale questo meccanismo che il comune doveva introdurre nei bandi il comune se l'ha scordato non ce l'ha messo forse perché non lo sapevano l'assessorato forse i collaboratori che all'assessore non gliel'hanno detto la morale è che il comune ha violato una legge dello Stato non ha inserito alcun meccanismo preferenziale per me associazione sportiva dell'ettantistica di lì è venuto tutto quindi per un dirigente sportivo se il comune viola una legge per me è già fuori gioco poi ci saranno i tribunali che ci ragionano sopra ma io come dirigente il giudizio l'ho dato secco andava messo nei bandi e nei bandi non è stato messo è un errore è una dimenticanza siccome ho fatto parte da 50 anni di consulte comunali che non si fanno più ed è un errore conferenze cittadini dello sport che non si fanno più ed è un altro errore del comune e della provincia che non le fa perché le cose interessanti che hai detto stasera le devi dire nell'assemblea pubblica altrimenti lo sai tu e qualcun altro mentre io non lo vengo a sapere c'è bisogno che voi consultate il movimento sportivo con i canali ufficiali non che sia l'unirsi che ringrazio che ci convoca per queste cose a me manca il luogo dove discutere di politica sportiva assessore assessore mi mancano i luoghi abbiamo fatto una riunione due anni e mezzo fa per Chiragisbo l'ha chiamata Alpertini da allora il comune di Bologna non si è degnato di convocarci per sentirci e questo è un errore politico e io questo glielo rinfaccio perché io sono un dirigente che ha speso 50 anni volontariamente per lo sport e non voglio essere offeso in questo modo fra l'altro e qui quando sento il sindaco dice legalità e trasparenza lei che lo scrive il presidente del mio quartiere che lo dice il bando della barca ha almeno sette illegalità di legge e di regolamenti comunali perché io tre anni fa in sede di commissione sportiva sessore mi scusi dopo lei risponderà giusto l'hanno detto che in sede di commissione sportiva del quartiere io ho informato i politici dell'epoca i dirigenti dell'epoca guarda caso sono anche gli attuali direttori che era cambiata la legge nazionale che quel regolamento comunale che lei qui ha letto non era più buono perché riportava frasi vecchie quindi il comune nonostante che io l'abbia informato nei canali ufficiali l'ho fatto io avranno i verbali se vorranno perché non ce li fanno leggere e non sappiamo cosa scrivono io dissi che il regolamento comunale andava modificato adeguandolo alla legge esistente che è la legge finanziaria stati fatti bandi con il regolamento vecchio con parole che non c'entrano è la legge finanziaria che dice chi gareggia e lo dice e devono gareggiare associazioni senza fine di lucro questo non è capitato e me ne è rammarico e io aspetto sempre che il quartiere Reno che ha messo nel suo mandato elettorale la formazione della consulta comunale dello sport che non ha ancora attivato dopo un anno e mezzo che la convochi perché io voglio andargli a dire pubblicamente queste cose io sono uno che su queste cose ci ha lavorato una vita e mi sento offeso da questi comportamenti io ci ho speso per il comune di Bologna quasi 40 anni della mia vita e mi vengo punito in questo modo ma non nei quattrini perché io lavoro gratis ma mi sento offeso moralmente perché non è così che si fa con la gente che ha speso una vita per fare queste cose la gente va ascoltata non è che si può scrivere nei bandi o nel documento elettorale ascolto comunicazione tutte queste belle parole e poi non praticarle io sono uno che voglio andare quando mi chiamano ma non voglio andare dove lui mi chiama lui fa bene chiamarmi io ci andrò ma deve essere il comune che mi chiama per discutere di queste cose perché sono un cittadino di Bologna e mi aspetto sempre di essere convocato perché voglio essere ascoltato grazie Presidente la Rosanna Facchini che è stata assessore comunale ma io volevo riprendere il ragionamento di un luogo pubblico e politico istituzionale che c'era e che abbiamo troppo presto abbandonato scusate l'autocitazione ma in questo bailamme degli impianti e lo sport non è solo gli impianti poi dirò qualcosa anche su quello l'anno scorso fece un intervento sul domani suggerendo una cosa allora l'ha già detto molto cattivo Balotta non voglio essere cattiva anch'io ma la conferenza metropolitana dello sport che non si era mai fatta forse è un'autocitazione sia autoreferenziale però nel 1994 1994 abbiamo fatto una conferenza metropolitana era l'epoca in cui avevamo fatto l'accordo per la città metropolitana perché sai Marco è vero ti è stato detto anche dove poi ci sono competenze specifiche della provincia ma lasciamo stare il problema è politico politico culturale e istituzionale il luogo pubblico dove queste cose si dicono e si fanno e io lo ripropongo occorre davvero riattivare i luoghi dove si discuteva di sport la consulta ma dalla consulta passammo e questo non è vetero voglio dire perché abbiamo sentito anche dire che quel volontariato lì non c'è più vabbè però se uno sa esattamente da dove viene forse riesce a leggere meglio dove è adesso e gli viene una qualche idea di dove andare allora intanto quel volontariato forse non c'è più però teniamocelo buono perché ci serve e allora io ripropongo la conferenza metropolitana dello sport ma la ripropongo con forza così come ripropongo con forza la riattivazione dei canali con il credito sportivo mi ha fatto piacere sentire Anna dell'incontro con Giovanna Melandri perché è solo di lì che possiamo andare tra l'altro faccio la maestrina per tutti dispiace a tutti dire che gli impianti si potevano mettere però un attimo l'edilizia pubblica e non solo quella sportiva tutta l'edilizia pubblica anche le scuole sono nella stessa situazione sono l'unico caso Berlusconi assente di assenza di stato di diritto perché la legislazione che viene è sempre retorativa escono nuove norme sulla sicurezza escono nuove norme sull'agibilità a valore non per la cosa nuova che si fa ma anche per tutti gli impianti e gli edifici precedenti ed è il motivo per cui l'edilizia scolastica e l'edilizia sportiva è sempre in difficoltà allora o c'è un canale finanziario privilegiato che è il credito sportivo o se no non ci arriviamo mai da questo punto di vista poi chiudo segnalandovi faccio la maestrina fino in fondo stamattina mi è capitato di ricevere nella mailing list della commissione europea in cui sono presente fin dai tempi di Imbeni così è anche un bel modo per ricordarlo per tutte le cose che con lui e anche con Vitali abbiamo fatto sullo sport continuo a ricevere dalla commissione istruzione sport e gioventù della commissione europea l'avviso l'11 luglio è stato varato dalla commissione europea il libro bianco dello sport che riassume tutto quello che è stato fatto nell'anno europeo dello sport che è stato il 2004 e là dentro secondo me ci sono delle cose in cui badate le cose che abbiamo detto noi sul volontariato sportivo sulla prevenzione sull'occupazione del territorio stanno tutte lì dentro non è che ci stiamo inventando niente quindi forse in Europa ci siamo arrivati forse anche prima e io allora segnalo che c'è questa opportunità che a livello politico istituzionale amministrativo ma anche delle società sportive va colta questa opportunità c'è un impegno non quantificato in euro però c'è un impegno a finanziare una progettualità territoriale sul tema non dell'impiantistica sportiva delle politiche sportive per i giovani e per gli anziani e qui chiudo con una piccola battuta polemica a te Marco io credo gioito come tutti a vedere quell'incredibile pistorio che se ne è andato con quelle due gambe a correre con gli altri io sono stanca di sentir parlare di federazioni dei disabili i disabili non so che sport è bisogna che ci battiamo non per un'impiantistica specifica per i disabili ma perché tutta l'impiantistica e tutto lo sport sia per tutti con o senza le gambe perché se hanno la testa correzza in capacità grazie Rosanna Facchini l'ultimo intervento di Simone Mottola io sono una persona un po' particolare all'interno del mondo sportivo faccio da 20 anni giornalista sportivo chi mi conosce lo sa legato alla palacanestro negli ultimi giorni sono andato sui giornali involontariamente su un episodio di cronaca che con lo sport non c'entra niente con la finale del playground di Giardino Magrita e chi almeno una volta è venuto a pregare di Giardino Magrita ha capito che non ci sono dubbi sul fatto che il presidente che sono io lo fa per volontariato mi vedete spostare i pesi esattamente come tutte le persone che collaborano per organizzare questo torneo torneo che organizzo da solo nell'80% quindi mi considero dal punto di vista organizzativo un professionista tra l'altro sono uno e trino non per il peso e non pensate male ma semplicemente rappresento una società di basket rappresento una delle credo 5 più grosse società non solo sportive che fanno arte, cultura e sport che sono i Giardini Magrita con oltre mille tesserati e sono presidente e ecco perché sono stato invitato qua del comitato Moratello che è una delle associazioni che ha perso il bando l'anno scorso come più volte ho detto all'assessore Patullo ho spiegato che io vengo dal mondo sportivo del campo ho una società che ogni anno lotta con la Pontevecchia faccio la Pontevecchia perché sono qua e so cosa vuol dire vincere so cosa vuol dire perdere e soprattutto vengo in un mondo quello della pallacanessa dove non esiste il pareggio quindi non posso fare le truffe per fare 0-0 come fanno nel calcio tutti gli anni per salvarsi le varie squadre o per le promozioni io o vinco o perdo mi è andata bene gli ultimi anni sono in qualche modo sempre riuscito a vincere le pari che contavano e mi sono salvato ma quello era semplicemente per dire che io non sono disturbato del fatto di aver perso non sono disturbato del fatto che da 20 anni e sono rimasto ti giuro Enzo veramente non ci avevo pensato e che in effetti è veramente così sono talmente abituato a leggere sul giornale di nuovi impianti sportivi in provincia che avevo rimosso che in effetti nella città di Bologna ci sono stati impianti rimessi a posto ma non nuovi e la lunetta Gamberini il centro sportivo Giorgio Bernardi è uno di quelli io faccio valutazioni molto piccole che in parte sono all'interno di questa discussione ma in parte spero che siano spunti di riflessione la prima appunto è che io conosco l'etica la parola sconfitta l'etica di cosa vuol perdere vorrei però perdere da un avversario leale e quindi la mia sensazione nella mia sconfitta è che gli altri parafrasando la palla canestro erano in sé in campo e gli arbitri non se ne sono accorti non solo ma io ho segnalato che erano in sé in campo gli arbitri hanno continuato a dire che andava bene così e questo è per segnalare che io posso perdere da dei professionisti diceva prima a casa Dio i professionisti i professionisti fermi tutti ma io vengo da un quartiere dove le polisportive sono sempre state considerate come i nemici il mio quartiere il santo Stefano è quello dove i rossi sono quelli cattivi e che io che rappresentavo una polisportiva ho quasi dovuto cambiare nome perché sembravo quello cattivo e infatti a noi è una situazione molto particolare perché fino all'ultima amministrazione nel nostro quartiere era sempre bianco nero azzurro il colore il rosso non esisteva era sempre in minoranza e questa è stata una situazione un po' particolare quindi io vengo da un mondo particolare nonostante l'apparenza ho solo 41 anni ve lo giuro ho la carta identità ed è 20 anni che faccio sport da volontario e tutte queste situazioni le ho fatte molto più in piccolo nel senso che anche noi abbiamo fatto e vi racconto solamente questo noi siamo stati considerati dai cittadini di Bologna non c'era né Instagram né niente ma telefonate email fax il centro sportivo meglio gestito di Bologna noi avevamo l'erba sempre sempre e la nostra palestra era pulita funzionale sempre abbiamo un campo 2 che fa schifo ma questo non è colpa né del comune né del gestore di nessuno è che è stato fatto male i tecnici del comune sono sbagliati non si sono accorti delle pendenze e vabbè pazienza non c'è problema adesso mi ritrovo ovviamente in una situazione in cui io ho perso da uno che era in 6 in campo che quando gli dico che è in 6 mi contesta mi dice che io sono cieco che se gli dico che le cose non va bene e qui esce un altro problema i famigerati scusate il termine direttore del quartiere terribili personaggi dal libro di Stefano Benni io credo invece che fare il bar sport io farei direttore dei quartieri chiederò a Stefano che ogni tanto sento di pensarci perché sono queste famigerate persone che devono sapere di tutto e hanno in mano tutto tutto quindi se io sono bravo o non sono bravo se siamo in 6 in 5 in 8 lo decidono loro nel nostro caso addirittura la persona che è direttore del quartiere ha una grandissima competenza in gestione informatica meraviglioso sullo sport sapeva niente come tutti per esuma giustamente di conseguenza in questo momento non mi trovo che chiaramente i direttori ma parlando con gli altri vedo che è così dappertutto si trovano in difficoltà quando noi continuamente pressiamo e il mio presidente scusate il termine bolognese dice sempre so c'è Motler che è Dummaran sempre a scrivere dell'email ma noi siamo fatti così cioè se le cose non funzionano io scrivo perché sono stato abituato che ogni volta che non scrivo e mi è successo stamattina nell'ennesima lotta al coltello perché appunto noi non avendo una polisportiva guida nel nostro quartiere quando si gioca i turni di palestra c'è il coltello ma il coltello macete non il coltellino e quindi l'ennesima conferma che se tu non scrivi ti sbagli e ti sei fidato della parola vieni fregato ma questo è un altro discorso e sono abituato a scrivere a rompere le scatole perché secondo me è così che bisogna fare cioè se gli altri chiedono una certa qualità a me che lo sono stato gestore per alcuni anni io voglio la stessa qualità non voglio trovarmi una palestra o un campo da calcio o un centro sportivo che non è lo stesso e qui arriviamo al discorso finale a me la cosa che mi dà fastidio e l'ho sentito in un intervento ero terrorizzato che non lo avesse ancora detto nessuno ma la chiave è se io gestisco un bene che utilizzo è come quando sono a casa mia o nella casa in cui io sono in affitto io ci tengo se no se sono in affitto mi cacciano via e se faccio dei disastri a casa mia mia ex moglie comunque mi faceva siamo capiti i mariti hanno capito cosa voglio dire adesso siamo in una situazione nella quale non avendo la maggioranza di questi pseudo professionisti attività all'interno degli impianti fondamentalmente qual è il loro interesse noi eravamo impazziti perché dicevamo ma come fa questo qui a fare un'offerta di questo genere che non si guadagna e vi chiudo con questo dato noi eravamo talmente bravi talmente bravi che avevamo messo via da parte una quota importante parlo di 70-80 mila euro nel corso degli anni per buona gestione per buona gestione abbiamo dovuto fare causa quartiere tutta una serie di interventi poi in più abbiamo fatto dei miglioramenti scelti da noi non perché obbligati e in sei anni abbiamo speso quindi io lo vedo come investimento non come spesa alla collettività tutti i soldi in questo momento nei banchi abbiamo circa dai 4 ai 600 euro e cose sono state fatte poi c'è chi non te le riconosce c'è chi vuole vedere le fatture e parliamo sempre dei famigerati direttori del quartiere che tu gli mandi la carta ma manco la leggono e te la richiedono per due tre quattro cinque volte la cosa che mi fa piacere è che l'assessore in un incontro tra virgolette pubblico nel senso che c'erano altri testimoni ha detto no sul discorso dei bandi in futuro chiedo conferma ci sarà anche uno dei nostri perché vorremmo un attimo che la situazione sia chiara ecco io credo di aver perso ripeto non perché l'altro era più bravo io non voglio discutere questo anno in questo anno secondo me ha dimostrato che non è più bravo di me però io ho perso perché secondo me giocava in sei e la cosa che mi dà fastidio non che giocassi in sei ma che i tre arbitri tre arbitri tra cui il direttore del mio quartiere non se ne è accorto e ripeto per chi vorrà entrerò nello specifico ma non è questa la sede e spiegherò eventualmente perché era in sei ma secondo noi la richiesta al TAR che abbiamo fatto è proprio quella questo è il nostro ovviamente parere grazie scusate spero di non avervi tediato grazie Mottola ecco io direi che questa sera il quadro che è uscito è veramente completo ed è direi che il risultato credo che che abbiamo ottenuto è quello che c'eravamo prefissi non abbiamo fatto della polemica abbiamo cercato di scoprire un problema e io ecco personalmente siccome sono abbastanza fuori da queste cose io io l'ho scoperto ho scoperto qualcosa di più potrei fare direttore di quartiere adesso allora io farei chiudere cominciando da Marco Strada e poi facciamo chiudere l'Anna Patullo io credo che sia giusto la richiesta che è stata avanzata sulla necessità di una conferenza metropolitana dello sport e che credo possa integrarsi bene con un tavolo provinciale dello sport sono due cose diverse sono due cose diverse ambedue necessarie perché credo che attorno alle politiche sportive è bene quando ci si confronta ci si ragiona più voce quindi si cerchi anche di trovare un filo conduttore comune quindi per quanto mi riguarda come dire accetto e condivido questa richiesta e mi renderò promotore per la realizzazione sia del tavolo provinciale dello sport quindi ragioneremo un po' sulla composizione sia per quanto riguarda la realizzazione di una conferenza metropolitana per lo sport quindi coinvolgimento anche degli altri comuni in modo tale che si possa affrontare ma anche confrontarci come altri comuni del nostro territorio in qualche modo hanno dato delle risposte rispetto al tema dell'impiantistica perché è vero quello che sottolineavano alcuni quando dicevano che vi sono alcuni comuni del nostro territorio ma altri ancora insomma ne potrei citare altri che comunque negli ultimi anni hanno costruito nuovi impianti quindi come dire socializziamo un po' i percorsi le azioni che sono state fatte perché questo può essere una risposta molto importante la seconda considerazione credito sportivo certo credito sportivo vi è la possibilità di accesso al credito sportivo almeno da parte della provincia sì noi abbiamo a disposizione 10 milioni di euro per abbattere il tasso di sconto che viene richiesto alle società dello 0,8% non è neanche l'1% noi l'abbiamo già messo a disposizione per la realizzazione per la sistemazione dell'impianto di calcio di Budiro ma anche di altri comuni che hanno appunto chiesto alla provincia di vidimare il loro progetto e come tale la possibilità di abbattere il tasso il tasso il tasso il tasso di sconto sul tema dei disabili una semplice riflessione ho detto che c'è un problema e il problema sono un problema delle risorse se allora attraverso le azioni e dei progetti che intendono intervenire sull'impiantistica presente per superare quelle situazioni che ostano l'opportunità che vanificano l'opportunità di fare dello sport e di praticare dello sport a tutti quindi anche alle persone disabili e se attorno a questi progetti vi sono i finanziamenti io credo che noi dobbiamo lavorare per poter ottenere questi finanziamenti perché perché se noi costruiamo o ristrutturiamo un impianto che va bene anche per le persone diversamente abili è evidente che noi doniamo un impianto non solo alle persone diversamente abili ma a tutti quanti ecco quindi se volete l'opportunità di avere risorse ha dettato questa strategia quindi io non è che voglio creare degli impianti che siano riservati alle persone disabili dico semplicemente che ovviamente questi impianti poi sono impianti che sono bene della collettività e quindi se questo è uno strumento benvenga come la idea di perché no proporre nell'ambito del PSC ma è una mia idea personale per cui alla fine come dire sono altri che dovranno decidere in merito ma nell'ambito del PSC del Comune di Bologna ma ne stanno venendo avanti un po' tutti i PSC perché è vero quello che si diceva prima ormai tutto il territorio provinciale sia in forma associata o in forma singola i vari comuni stanno presentando i PSC e i PSC determinano le scelte di pianificazione territoriale per i prossimi 20 anni non 15 per i prossimi 20 anni allora è bene che in questa pianificazione che ha un lasso di tempo così lungo 20 anni è bene che ci sia un'idea attenta e una partecipazione attenta su come queste comunità e questi comuni che si vanno a ridefinire fanno dello sport e quindi dell'impiantistica sportiva e della opportunità di praticare sport ai vari livelli un elemento assolutamente distintivo ecco perché dicevo perché ad esempio non pensiamo che Bologna possa proporre una cittadella dello sport che sia messa a disposizione di tutti quelli che vogliono praticare lo sport ma che hanno diverse abilità chiaro che se sono a disposizione loro sono anche a disposizione ovviamente del resto ecco era semplicemente questo ma non per fare delle cose differenti grazie grazie strada chiediamo sì due no alcune velocissime precisazioni allora io ovviamente non ho non ho parlato del volontariato quel volontariato a cui si riferiva con grande attenzione il presidente del CONI e che è credo in una città come la nostra ma in una regione come la nostra visto i numeri i numeri delle associazioni scritte all'albo regionale sicuramente non un valore aggiunto di più se questo termine è possibile io non mi sono occupata di questa parte perché era ovvio che il tema che in qualche modo interessava l'assessore su cui ha tentato di dare delle risposte era quello del volontariato inteso come quella parte di volontariato che ha gestito e che continuerà a gestire gli impianti del comune di Bologna io però vi chiedo scusa per la crudezza del linguaggio però io vorrei dire una cosa dieci anni fa un contratto nazionale di lavoro decise che il valore aggiunto per i dipendenti pubblici era legato ai progetti che in quei gruppi di lavoro venivano fatti io ricordo che grande ira ci fu nei nostri uffici ma come il mio salario adesso devo dimostrare attraverso un progetto che io sono capace di fare cose che faccio tutti i giorni non li facemmo e per tre anni noi non percepimmo il salario aggiunto poi dopo ragioniamo su questa cosa lì iniziamo a fare era facile perché insieme le cose sono facili e il mondo dei gestori aveva una rappresentanza che si è incontrata con l'assessore io credo che le risorse nel gruppo del volontariato dei gestori degli impianti di questa città ha la capacità di scrivere progetti e i progetti sono quelli che sono previsti da una parte dei bandi e che grazie ad una interpretazione purtroppo non ancora certa e questo non dipende dall'assessore probabilmente porterà a fare dei bandi che guardino solo alla qualità della gestione io credo che questo mondo ce la può fare ce la può fare insieme quindi questa è la risposta comunque non è possibile ipotizzare in una società come la nostra che per quanto vero che l'utilizzatore è colui che sa gestire un impianto in questa città tanti sono gli utilizzatori non uno e quindi comunque vanno scritte delle regole vorrei aggiungere un'altra cosa andando ringrazio alla Facchini perché come al solito è riuscita a fare un intervento di grande importanza avevo per altri canali visto questo documento a cui ti riferisci ma anche perché cerchiamo non solo quei documenti ma anche di capire se ci sono progetti europei a cui noi possiamo partecipare adesso siccome ognuno deve far vedere che è bravo lo faccio anch'io noi siamo riusciti a fare progetti finanziati dalla comunità europea per la prima volta in questa città anche sulla protezione civile due progetti importanti io sono l'assessore di questa attività non era mai stato fatto in questa città quindi l'attenzione sul volontariato c'è tutta ma deve essere una cosa reciproca e bisogna anche dire le cose non come mezze verità io questa sera ho sentito che le palestre scolastiche sono state gestite in maniera vergognosa dal gestore precedente bene può essere però due cose la prima è che intanto in questa città si possono utilizzare le palestre scolastiche della provincia di Bologna perché i soldi ce li mette il comune di Bologna 370.000 euro all'anno e queste cose vanno dette perché saranno anche una conquista del volontariato sportivo ma questa amministrazione ha scelto di mantenere fede a quelle scelte che furono fatte e io nel mio bilancio ho 370.000 euro che pago alla provincia non solo si è detto che sono stati gestiti in maniera vergognosa bene ragazzi ai miei uffici c'è un documento firmato dai presidenti e dai direttori scolastici del quartiere Savena che dice una roba è falso sarà anche falso però sono i dirigenti di scuole pubbliche e io se permetti non dico che sono falsi farò le verifiche possibili e le verifiche saranno di tre tipi perché noi stiamo aspettando un geometra al settore sport verificheremo la tenuta degli impianti ed è grave che mi si viene a dire che non fu fatto nel passato questo lavoro in linea teorica chi ha lasciato degli impianti al di là delle opere che ovviamente non potevano essere fatte a carico del volontariato avrebbero dovuto lasciare degli impianti e non portarsi via le mattonelle tanto per essere chiari allora i controlli saranno di tre tipi perché tre sono i problemi che abbiamo sugli impianti il primo è sulla tenuta degli impianti e lo farà il settore non il quartiere con due tecnici che verranno assegnati all'assessorato poi ci sarà un altro controllo che vale per tutti che vale per tutti che è la verifica di ciò che è stato scritto per vincere il bando e di ciò che è stato fatto naturalmente non esiste un'unica visione che è solo quella punitiva sui controlli ma è anche quello di capire che cosa è successo perché non sono state fatte le cose in alcuni impianti alcune cose non sono state fatte perché sono mancati la parte di introiti che dovevano arrivare su quell'impianto facciamo un esempio fuori dagli impianti di terra così evitiamo confusioni la piscina dello stadio doveva fare dieci lavori ne farà otto ma io non ho intenzione di agire solo in maniera punitiva io ho ascoltato e continuerò ad ascoltare che cosa è successo perché non è colpa del gestore se qualcuno ha deciso che le partite di serie B si giocano durante la settimana e io ho tre giorni ogni volta che c'è una partita la piscina è chiusa quindi saranno anche false le cose però io non ho la possibilità di smentire un direttore didattico a meno che non lo vedo con i miei occhi lo vedrò con i miei occhi e ci sarà un altro tipo di controllo che è quello che attiene all'utilizzo degli impianti sportivi perché voi lo sapete bene che ci sono già in giro in questi giorni delle frizioni con qualcuno che dice ma io avevo gli spazi che me li dava il gestore allora vogliamo dirle queste cose perché se no stasera sembra che siamo tutti puri che nessuno ha mai come dire messo in difficoltà le situazioni ce le diciamo però i progetti io sono certa che voi siete in grado di fare dei progetti l'importante è non scrivere io ho gestito per tanti anni perché non è è un valore importante è un peso importante ma purtroppo non è tutto grazie grazie all'assessore Patullo grazie a tutti noi a tutti voi chi deve assumersi delle responsabilità ora se le deve assumere grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti